Da domani il governo ha lavoro per contrastare la quarta ondata e decidere su tre questioni. Innanzitutto il Green Pass ha rafforzato solo per le persone vaccinate o guarite dal Covid, che di fatto impedirà a chi non vuole farlo l'ingresso in luoghi aperti al pubblico. Sull'esenzione dell'obbligatorietà vaccinaria ad alcune categorie il governo non sembra avere più dubbi, a partire dunque da medici e personale sanitario, ma anche forse dell'ordine insegnanti. Dal lunedì scatteranno anche le somministrazioni delle terze dosi anche per gli over 40 e si prevede un'impennata sul fronte delle prenotazioni. Grazie a tutti.